Ciao a tutti, bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italiano I due ragazzi parlano del loro rapporto e Sofìe ammette di avvertire un certo allontanamento da parte di Alessandro Sofìe e Alessandro stanno imparando, col tempo, a capirsi e a chiarire le loro differenze Dopo lo scontro di questa notte i due si ritrovano nuovamente a parlare e Sofìe ammette di essersi innervosita perché percepisce un certo allontanamento da parte del suo fidanzato Alessandro, dal canto suo, le spiega che sta solo facendo un grande lavoro su se stesso e sta imparando a non alterarsi troppo e a non esagerare durante le discussioni, proprio perché ti amo mi comporto in questo modo L'amore folle mi sta bene ma deve avere un senso continuo e il ragazzo, finalmente consapevole che troppi alti e bassi possono solo danneggiare la loro relazione Sofìe è d'accordo con lui ma, pur essendo felice della crescita e del lavoro che Alessandro sta facendo sulla sua personalità, crede che si stia lentamente allontanando da lei, nelle altre cose ti vedo più distante Il cambiamento tuo lo vedo sia in te stesso che nei miei confronti aggiunge Non è mancanza di interesse o di sentimento la rassicura il ragazzo, ribadendo il suo amore per lei e le sue intenzioni di costruire un futuro insieme Grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo ai prossimi video. Addio